Su disposizione dell'autorità giudiziaria teatina, nella rete di sicurezza predisposta dalla prefettura con i finanzieri locali, una squadra artificieri dei carabinieri di Chieti, una unità di vigili del fuoco e personale del 118, si è proceduto in totale sicurezza alle operazioni di brillamento di 930 candelotti artigianali per circa 60 kg di esplosivo. Era imponente infatti il quantitativo di materiale esplodente rinvenuto dai finanzieri del comando provinciale di Chieti nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria in un'abitazione privata di Ortona. L'operazione risale alla scorsa estate quando le fiamme gialle della tenenza di Ortona durante la perquisizione della casa di un 53enne del posto hanno rinvenuto i 930 candelotti artigianali, un fucile da caccia e varie cartucce calibro 12. Sequestrato il materiale hanno deferito l'uomo alla procura della Repubblica di Chieti per i reati di detenzione abusiva di armi, detenzione e commercio abusivo di sostanze deflagranti, provenienza e finalità del materiale esplodente è ancora oggetto di indagine e delle analisi eseguite dal Racis dei Carabinieri.